Favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l'inserimento di giovani. E' questo l'obiettivo della misura promossa da Ismea all'Istituto Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. E' stato infatti approvato il regolamento attuativo che prevede delle agevolazioni per i giovani, che anche organizzati in forma societaria intendano insediarsi per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capiazienda. E' che è presente in un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività articolato su un periodo di almeno cinque anni, dimostrando la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. La misura prevede un premio fino a 70.000 euro per i giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, al momento della spedizione della domanda. Inoltre il bando richiede adeguate capacità e competenze professionali che siano attestate da titoli di studio o da esperienza lavorativa di almeno due anni. Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un'operazione di leasing finanziario finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola ed erogato in due tranche nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Il leasing dovrà essere rimborsato e rate semestrali posticipate. Il premio di insediamento è concesso in conto interessi ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento di durata variabile a scelta del soggetto beneficiario tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.